buongiorno a tutti benvenuti alla conferenza stampa pre partita con il capitano della nazionale italiana manuela furlan che risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia di italia scozia quarto incontro del tiktok women six nation 2022 in programma allo stadio sergio lanfranchi di parma sabato 23 aprile alle ore 20 e 20 cominciamo con la prima domanda paolo malpezzi sky sport nelle prime tre partite pensi che la squadra non abbia mostrato appieno il suo potenziale su quale aspetto del gioco vi siete concentrati in particolare in vista della scozia e buongiorno a tutti e sì nelle prime tre partite escluderei un po quella con la francia dove comunque siamo riuscite a esprimere il nostro gioco ma c'è mancata la precisione nei negli ultimi 20 metri e nelle altre partite effettivamente non siamo riusciti a dimostrare quello che è il nostro gioco abbiamo stiamo cercando di introdurre quest'anno dei nuovi meccanismi quindi è chiaro che il processo è in in evoluzione quindi affinché questi meccanismi diventino automatici c'è bisogno di tempo sicuramente contro inghilterra irlanda sono venuti a mancare oltre alla precisione un po di determinazione e un po di determinazione in generale quindi con la scozia abbiamo cercato di lavorare soprattutto appunto sulla precisione finale e sulla sull'efficacia degli esiti che vogliamo ottenere nelle varie fasi di gioco. La notizia dei nuovi contratti è molto importante per il futuro del movimento italiano ha portato anche una maggiore serenità nell'immediato tra di voi? Allora sicuramente in ottica futura è un primo fondamentale passo che ci abbia portato serenità sì in parte ovviamente sì nel senso che questo ci permette di svolgere il nostro compito un po più serenamente di prima non che prima non lo fossimo però chiaramente è sicuramente un qualcosa di molto importante che ci permette appunto di concentrarci più sull'aspetto cioè in maniera più serena sul campo. Giacomo Bagnasco il sole 24 ore una panchina forse più ricca del solito come valore tecnico può risultare determinante per la conquista del successo? Sicuramente ci sono dei rientri molto importanti all'interno del gruppo ma credo che tutta la nostra rosa sia formata da elementi più che più che validi a livello tecnico e a livello di gruppo quindi fortunatamente se vogliamo c'è molta come come dire competitività quindi è sempre bello quando un allenatore si trova di fronte a delle scelte a dover fare delle scelte chiaro che per chi subisce in maniera sì non ricevendo la convocazione non è una cosa bella però questo fa sì che tutte dobbiamo sempre farci trovare pronte e per poterci meritare insomma il posto io sono convinta che tutte le ragazze meriterebbero di stare qui però ovviamente l'allenatore poi deve fare delle scelte. Francesco Palma on rugby la classifica fa assumere a quest'Italia-Scozia le sembianze di uno spareggio sentite questa tensione o riuscite a viverla come una partita normale? Non nego che il fatto di arrivare da tre sconfitte un po' ti fa entrare nel loop ne ho già perse tre chissà come andranno le prossime due però allo stesso tempo credo che attivi anche l'esatto opposto cioè hai voglia di far vedere quello che non sei riuscito a dimostrare nelle altre partite la Scozia si trova nella nostra stessa condizione arriva anche lei da tre sconfitte quindi sicuramente c'è voglia di dimostrare e di togliere quello zero nel tabellino delle partite vinte da parte di tutte noi dal canto nostro ovviamente vorremmo vogliamo dare il massimo per portarla a casa sapendo appunto che sarà una partita molto difficile. Francesco Volpe corriere dello sport si è tornati a una squadra composta da tutte le atlete più esperte ci sono problemi di ricambio generazionale? No non lo vedo come un problema di ricambio generazionale abbiamo tante giovani anche in rosa semplicemente c'è un rientro da parte di alcune che erano fuori per infortunio che da una parte sono rientri comunque importanti per il gruppo e dall'altro direi che sicuramente possono cioè tutti possono essere d'aiuto sia le atlete più esperte che quelle più giovani non parlerei in questo caso di problemi di ricambio generazionale. Grazie a tutti le domande sono terminate vi diamo appuntamento a domani sabato 23 aprile alle ore 20 e 20 allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma per Italia Scozia quarto incontro del TikTok Women Six Nations 2022. Grazie Grazie a tutti